Un gol messo a segno da Di Fabio dopo soli 90 secondi è sufficiente al paderno per incamerare tre punti che valgono come loro, perché conquistati al termine di 95 minuti di pura sofferenza. Marsicani in piena emergenza nel reparto arretrato, con i tre centrali, Celli, Di Stefano e Tabacco, tutti ai box per vari motivi, e dopo meno di mezz'ora a lasciare il campo per infortunio è stato anche Capitano Albertazzi. Insomma, il povero Torti non sapeva più a che santo votarsi e dopo l'uscita di Albertazzi ha mandato in campo Baraldi spostando l'epre nel ruolo di difensore sinistro. Di tutte queste situazioni la torrese però non ha saputo approfittare e come detto dopo 90 secondi ha preso il gol. Poco prima della segnatura però i marsicani elaborano una bella trama con cross finale di Albertazzi che un difensore devia in angolo. Salgono i lunghi in area torrese mentre Albertazzi va a battere, secondo uno schema preordinato che ha già fruttato altri gol in precedenti circostanze. Appoggio corto per Franchi che va incontro alla sfera, nuovo suggerimento per l'avanzato Di Fabio che impatta preciso e batte Bruno con un tiro molto angolato. La torrese ovviamente non ci sta e prova in tutti i modi a recuperare lo svantaggio. Al ventesimo De Santis si beve Di Fabio in velocità e va da solo a tu per tu con Cattafesta che sceglie bene il tempo dell'uscita e sventa in presa bassa. Paterno sulla difensiva e al ventiseiesimo è torvidone ad avere un buon pallone. L'attaccante riceve, si gira e prova il rasoterra che Cattafesta blocca però con sicurezza. Un minuto dopo si fa male a Albertazzi e i problemi per il paterno aumentano in proporzione. Entra Baraldi e Lepre retrocede in difesa adattandosi a fare l'esterno con una disinvoltura che non gli conoscevamo, lottando contro chi gli capita a tiro come fa un vero terzino. Nella Zurri che soffrono ma resistono e vanno al riposo con il preziosissimo vantaggio del golletto messo a segno da Di Fabio ma è impressione generale che il parziale possa cambiare da un momento all'altro. Si ricomincia e la Torrese manda subito in campo Carozone per il difensore Cristofari accentuando una spinta che però continua a non produrre cose concrete. Il secondo tempo però sarà quasi un monologo degli ospiti che già al primo minuto vanno alla conclusione al volo con Scartozzi che ci prova da 25 metri obbligando Cattafesta al tuffo laterale per deviare in angolo. Mezzo minuto più tardi Torbidone di testa alza troppo la mira sul corner di Scartozzi. Undicesimo fuga di Puglia che apre a sinistra per Torbidone il cui cross e teso viene bloccato a terra da Cattafesta. Ancora è sempre Torrese in avanti. L'imbucata è per De Santis sul quale esce con perfetta scelta di tempo Cattafesta e neutralizza di nuovo. Nerazzurri che alleggeriscono la pressione solo con lanci lunghi sui quali provano a cavare qualcosa di buono Giglio e Baraldi ma con scarsi risultati. Passano i minuti e la Torrese continua a mantenere un netto predominio territoriale ma il risultato non cambia e soprattutto Cattafesta non corre eccessivi pericoli. Al trentanovesimo Stacchiotti colpisce bene di testa spedendo il pallone ad accarezzare il palo alla destra del portiere di casa. Paterno che tira un sospiro di sollievo e Torrese che invece si dispera. Al quarantaseesimo su azione di contropiede Baraldi non trova di meglio che spedire altissimo un pallone che forse poteva essere sfruttato diversamente. E in pieno recupero capita ancora a Baraldi la palla del possibile K.O. È il quarantanovesimo quando un difensore ospite sbaglia il rinvio e Baraldi manca il raddoppio nel modo che vediamo. Ma forse per la Torrese il 2-0 sarebbe stata una punizione eccessiva se non altro per l'impegno messo in campo. Una partita diciamo strana di difficile decifrazione ma il Paterno era in emergenza assoluta. Praticamente la difesa non esisteva più, Celli, Di Stefano, Tabacco e dopo un po' anche Albertazzi fuori. Torti, tre punti per voi importanti ma tecnicamente è stata una partita diciamo di scarso livello. Ma scarso livello, sono come se valutazioni vostre, è ovvio che noi per come stavamo messi sicuramente la squadra ha fatto una buonissima partita dal punto di vista caratteriale. Abbiamo concesso poco a una Torrese, una squadra forte, lo sapevamo perché di fatto se andiamo a vedere grandissime occasioni tranne il colpo di testa di Stacchiotti. Però è ovvio che alla fine magari loro avrebbero meritato il pareggio per come diciamo sono venuti. Quindi il primo tempo non ci hanno fatto giocare, loro hanno fatto bene, poi al secondo tempo noi alla fine 4-5 ripartenze importanti forse potiamo, se andiamo a vedere le occasioni migliori forse ce l'abbiamo avuto noi. Luigi Narcisi, tecnico di questa Torrese che avrebbe meritato quantomeno un punto, però non ci siete riusciti a far gol nonostante le tante difficoltà del Paterno. Che cosa vi è mancato? Forse negli ultimi metri siamo stati un po' imprecisi, siamo mancati nell'ultimo passaggio. Comunque sia la prestazione è stata una buona prestazione, la squadra ha fatto bene, sicuramente potevamo fare qualcosa in più negli ultimi metri. Abbiamo preso anche un palo, ci abbiamo provato fino alla fine, una sconfitta che brucia. Probabilmente anche un punto sarebbe stato poco per la prestazione che abbiamo fatto, però bisogna saper perdere. Questa settimana questa partita ci ha girato così, speriamo che nelle prossime partite riusciremo a raccogliere di più.